Siamo arrivati all'ultima giornata del girone d'andata del campionato di eccellenza. Il Gera Calcio affronterà domani a Iaca di Piraino la Nebros, attualmente settima in classifica a meno 3 dei Biancazzurri. Un successo farebbe comodo alla compagine gelese, reduce dalle due vittorie contro Leon Vortese e Santa Croce, per consolidare il quarto posto in cui risiede e chiudere nel migliore dei modi una prima parte di campionato diversa da quanto ci si aspettava. La società ha dichiarato ad inizio campionato e ribadito tante volte che l'obiettivo primario è quello della salvezza, giocando un campionato tranquillo. Ad una piazza come quella gelese però non si può chiedere di avere aspettative così basse e il campo sta dando ragione ai tifosi che vogliono sognare in grande. Vittoria sul paterno attuale seconda in classifica all'esordio e pareggio quasi immeritato con l'Enna, con i Biancazzurri che si sono visti annullare un gol per un fuorigioco inesistente. Il titolo sembra molto lontano, anche considerando le corazzate che si hanno contro, ma i playoff non sono un utopia, vedendo soprattutto i mezzi che si hanno a disposizione. Il talento non manca, basti pensare a Gabrielves e Pedro Martinez. L'esperienza c'è su tutto il capitano Raffaele Gambuzza. I giovani di prospettiva ci sono pure, in primis Federico Rechichi, ormai perno della squadra, e Flavio Ferrigno, classe 2007 che ha debuttato contro la Leonfortese. Saranno molto importanti però anche gli ultimi giorni di mercato. Il Gela ha infatti ingaggiato solo l'attaccante Laie Signatè, mentre la trattativa per Mattia Retucci non è data in porto e non è certo neanche l'arrivo di Francesco Mauro. Appuntamento fissato a domani anche con la Melfast Gela Basket, impegnata in casa contro l'Invicta Basket, attualmente quarta in classifica e sopra i biancazzurri di due lunghezze. La squadra di coach Bernardo è in cerca della terza vittoria di fila dopo i successi contro Giarre e Cus Palermo. Con una vittoria la compagine gelese si porterebbe momentaneamente al quarto posto, a pari punti proprio con l'Invicta. Gara complicata per l'Ecoplast, in trasferta contro la farmacia Schultze ed in cerca della gancio al podio. I biancorossi non stanno di certo brillando fuori casa. Serve infatti una scossa che potrebbe arrivare domenica in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro una delle corazzate del girone. Chiamata a consolidare il primato, invece, la polisportiva Nuova Città di Gela. La squadra di coach Buonaccorso dovrà affrontare la Volley Valley, sesta in classifica a meno 5 dalle giallonere.